Buongiorno, io sono Miriam, sono tutor del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e adesso vi presenterò quelle che sono le offerte formative che il nostro Dipartimento vi propone. Questo sito insomma vi riporterà tutte quelle che sono le ultime informazioni sull'Università di Siena oltre che vi darà comunque modo di poter esplorare tutti i corsi che l'offerta formativa che il nostro Ateneo vi propone appunto divisi tra triennale e magistrale vi è la possibilità anche di accedere al mondo dell'ufficio placement lì dove potrete insomma osservare quelle che sono le offerte lavorative messe a disposizione comunque dalle agenzie e dalle aziende che collaborano con l'Università. Andando sulla diciamo finestrella studio e cliccandoci su vi apparirà la pagina nella quale poi potrete ricercare il corso ai quali siete interessati. Nel nostro caso andremo a cercare Scienze della Comunicazione che ci apparirà sotto la dicitura lauree triennali. Il corso in Scienze della Comunicazione qui vi farà diciamo un riassunto di quelle che sono le materie e gli argomenti che si andranno a trattare nel corso dei tre anni oltre che anche il piano di studi dello stesso. Al termine di questi tre anni gli sbocchi occupazionali dello studente saranno vari infatti diciamo si laureeranno esperti nel marketing, nel trattamento delle informazioni, servizi culturali, pubblicità e strategie comunicative e anche nel giornalismo e per quanto riguarda l'experience design. Stessa procedura per quanto riguarda anche il corso di Scienze del Servizio Sociale. Per quanto riguarda Scienze del Servizio Sociale anche qui uno schema riassuntivo di quelli che saranno gli argomenti generali per quanto riguarda il primo anno e più professionalizzanti per quanto riguarda il secondo e il terzo anno. Alla fine ovviamente nascerà un'ipotetica figura di assistente sociale. Ipotetica perché? Perché comunque ci sarà da fare un esame di Stato che vi permetterà poi di poter diventare degli assistenti sociali a tutti gli effetti. Sia Scienze della Comunicazione che Scienze del Servizio Sociale sono due facoltà a numero aperto solamente che ci sarà la necessità comunque di fare un test di autovalutazione che poi diciamo le date varieranno anche in base al numero di studenti iscritti. Tutte le informazioni le potrete trovare sul sito del rispettivo corso di laurea. Per quanto riguarda invece le lauree magistrali Language and Mind, Public and Cultural Diplomacy, Strategie Tecniche della Comunicazione e Antropologia basterà inviare presso l'indirizzo email della segreteria il proprio curriculum universitario della laurea precedentemente acquisita in maniera tale che così il comitato di ciascun corso di studi potrà valutare il curriculum e se necessario si inviterà lo studente ad un colloquio conoscitivo in cui appunto una commissione gli chiederà semplicemente le motivazioni che l'hanno spinto a partecipare o ad iscriversi insomma a questo corso. Un'altra sezione parecchia importante è quella che riguarda i laboratori quindi cliccando su laboratori vi apparirà questa pagina questa è una panoramica del nostro corpo docenti, ricercatori e anche la parte studentesca del dipartimento qui vi si spiega cos'è il Coworking Lab e questo è l'elenco di tutti quelli che sono i laboratori che potrete insomma utilizzare sia durante le lezioni che anche dopo magari facendo anche le ore di tirocinio per esempio nel laboratorio di Interaction Design qui non è citato però se ricercate il Santa Chiara Lab è un laboratorio che si trova a poco distante dal nostro dipartimento e si occupa appunto di stampe 3D, realtà virtuale, Fab Lab questi ad esempio questi oggetti sono stati creati attraverso e grazie anche a stampe 3D ovviamente i nostri studenti che hanno deciso di fare il proprio tirocinio qui o comunque scrivere una tesi su queste tematiche hanno toccato con mano quella che è questa nuova tecnologia molto ma molto interessante sul sito orientarsi attraverso l'opzione scelgo potete anche trovare informazioni utili tipo la borsa per il diritto allo studio quindi vi si spiegherà come poter fare domanda e in cosa consiste la domanda e in cosa soprattutto consiste la borsa di studio invece per quanto riguarda la sezione vivo vi è una panoramica generale su quelle che sono le opzioni o comunque dei consigli su come muoversi a Siena perché noi siamo su Siena quindi come muoversi in città dove sono le residenze e gli alloggi che si ottengono poi con la borsa di studio le mense universitarie per quanto riguarda le mense universitarie ad esempio vi spiega un po' come sono diffuse sul territorio e dove sono collocate infine vi è la sezione lavoro ogni tot di mesi la nostra università propone delle career week quindi le aziende aventi anche dei nomi abbastanza importanti si presentano comunque in università e sono pronti a dare consigli su come scrivere un curriculum fare anche dei colloqui lavorativi e anche spiegare un po' come funziona il mondo del lavoro bene, io vi ringrazio per l'attenzione adesso vi lascio queste che sono i nostri contatti sia per quanto riguarda la segreteria che per le nostre pagine social e per qualsiasi informazione noi siamo a vostra disposizione e ora vi ringrazio per la segreteria che per le nostre pagine grazie a tutti